Ciao a tutti ragazzi, questo è di oggi, siamo tornati con il suo video di nuovo con una reazione del calcio Questa volta andiamo a vedere le skill più umilianti e belle fatte nel 2021 L'ultima è fatta in queste settimane, in questi mesi E sicuramente l'idea di questo video viene da lui Kylian Mbappé ha umiliato il Barcellona levando la tripletta Ma quante giocate incredibili signori Tanti tanti dripling bellissimi Non solo lui, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, tantissimi altri fenomeni Tutti racchiudono in una top Quindi ragazzi se vi piace come idea e volete altre reazioni Facchiamo di mi piace questo video Nei commenti scrivetemi Chi secondo voi in tutte queste clip ha fatto il dripling o la skill migliore Oppure quella più umiliante Quasi quanto questi capelli ci stiamo lavorando ragazzi Prima o poi li andrò a tagliare Scusatemi se oramai li tengo così hanno una lunghezza che davvero ha del ridicolo Però passiamoci sopra Io vi ricordo sempre di iscrivervi al canale Condividerevi ovunque Passate alla mia Instagram e trovate qua sotto E oggi davvero importantissimo Vi voglio mostrare altre due magliette che mi ha inviato Il mio sito Okcalcio Magliette Tute Giubbotti T-shirt Qualsiasi cosa Per qualsiasi età A prezzi Stracciati E con il mio coupon Risparmierete ancora di più Le due magliette che voglio mostrarvi oggi sono Una di una squadra spagnola E un'altra una maglia di allenamento Perché oltre alle tute Di vari tipi Ci sono anche le maglie di pre-gara Quelle proprio di allenamento E oggi voglio proprio partire da quella Perché ce n'è una stupenda Quella del Chelsea Guardate qui ragazzi Che splendore raga Davvero stupenda Tutta oro Con questi ricami E davvero Semplicissima Comunque come detto È una maglia pre-allenamento Quindi i nomi Non ci possono S Perché hai detto Come detto È una maglia di allenamento Quindi raga Però quanto è bella Il giocatore che ho scelto È Luis Suarez Che si è preso anche questa squadra Davvero un giocatore Incredibile Ed è davvero strano Diciamo così Sembra Sembra maltrattata Ma giuro che è proprio L'effetto visivo che dà È un po' come la terza maglia Della Juve Quella arancione Deve piacervi Perché è parecchio Parecchio strana Ha questo colore Parecchio acceso Che sembra evidenziatore Ecco Davvero davvero bello Belli così Neri Ai lati Però comunque È parecchio Parecchio bella Se vi piace Se vi piacciono le maglie Un po' strane È davvero davvero Fighissima Quindi raga Queste sono le due magliette Adesso vi lascio una intro Dove vi spiega Tutto quanto In pieno il sito E almeno avete Un'infarinatura Su come muovermi Come detto Scegliete voi Se acquistare o no È una scelta vostra Le spedizioni Purtroppo In questo periodo Covid Sono davvero davvero Rung Però comunque Con questi prezzi Davvero stracciati Basta parlare Vi lascio all'intro E poi buttiamoci nel video Eccoci qui ragazzi Su ok calcio Adesso sto guardando il sito Ho scelto questa del real Per fare un esempio Ed eccoci qui Qua noi possiamo scegliere Tutto quanto Vi ricordo Molto importante Se scegliete di acquistare Createvi un account Qui in alto a destra Potete crearvi un account Almeno così Riesce tutto quanto salvato È importantissimo Per qualsiasi problema Che avete Come per tutti i siti Contattate ragazzi L'assistenza Come fare C'è il bollino Qui sotto in basso a destra Come vedete Di whatsapp Oppure Basta tranquillamente Scendere E c'è proprio qui Il tuo account Dove potete scegliere Tutto quanto E vedere tutto Come sta andando il lavoro Dove è l'ordine Tutto quanto Per tracciarlo E in più c'è I nostri servizi La parola contattaci Quindi potete contattarli O via email Con il vostro messaggio O via whatsapp Questo è davvero importante Quindi ragazzi Cose importantissime Crearvi sempre un account Così potete monitorare Il vostro ordine E in più Se in un futuro Dopo uno Addirittura due mesi Non vi arriva il pacco C'è il supporto Adesso noi dobbiamo Scegliere la nostra taglia State attenti Prendete quella che volete Potete personalizzarla Con il vostro nome Il vostro numero Le toppe Quindi scegliete Le toppe che volete Premete nel carrello Quindi ve lo mostrerà Dove è fatto Adesso il vostro account Tutto quanto Vi riporterà qui Compila tutto quanto Nome Cognome E tutto quello Che dovete compilare Qua scegliete il vostro Metodo di pagamento Vedete voi Quale usare Poi ovviamente Qui c'è il buono sconto Usate quello Exit Adesso vi lascio il video Buona visione Eccoci qua Prontissimi Per incominciare Io vi ricordo Che il creatore di questo video Si trova alla fine Della descrizione Dove è detto questo Basta parlare Tanti mi piace Aspetto la vostra Nei commenti Iniziamo fra 3 2 1 Via Si parte subito Eh ragazzi Subito con lui Killian Ieri sera Era la sua serata Ragazzi Era lui Davvero cosa ha combinato Mamma mia Che umiliazione Ma che Di faccia a terra Subito Quella è già la mia clip Già la mia fucking clip Quella Di faccia a terra Umiliatissimo Povereta Non ho visto chi era Non ho visto che giocatore Del Tottenham era Però Gundogan è tornato alla grande Davvero ha avuto I suoi problemi di infortuni Parecchio parecchio gravi Però come è tornato ragazzi Come è tornato Qui vabbè Solito di Neymar Guarda Molto bello Molto bella Quella come skill Kuluseski Con quei tac 1-2 Già la forza L'avevamo visto Però davvero Un bel talento Se non erro 2000 Comunque non male Forse deve ancora Sbocciare Nel super giocatore Però Diciamo che C'è lì Ha guarda Poi Kylian In mezzo a tre Ti fa questo Supera Messi Supera Pedri E fa tunnel Buschezza E riparte Ragazzi Che dobbiamo dire Che dobbiamo dire Si è consacrato Ieri sera Diciamo così Nulla da dire Il calcio è suo Oramai A 22 anni Porca puttana Neymar Junior Qua invece di AB Bel tunnel Bel tunnel Chiuso nell'angolo Se ne esce in modo Stupendo Se ne esce davvero Davvero in modo Stupendo Sancho Pancio Anche lui Lui è ancora più giovane Di Mbappé Però Ancora Non è ai livelli Sui purtroppo Però del 2000 Sancho E ancora Difficile trovare Uno ai livelli Di Mbappé Mbappé è già ai livelli Dei grandi Tra poco Quindi tanta tanta roba Dembele Skill E Cross Ieri proprio Non si è visto Nella partita Fatemi sapere Voi cosa ne avete pensato Reim Sterling Grande Grande Stangelo Non è mai diventato Uno dei protagonisti Del City Lui è De Bruyne I protagonisti I più forti Quindi davvero Tanta tanta roba Un grande Grande giocatore Sterling Qua Marziale Sta facendo una bella stagione Abbiamo visto prima Qui Big Rom Fa una bella Una mezza roulette Diciamo col corpo Fa una rouletta Molto molto bravo Anche qua Depay Usa il suo corpo Per passare Davvero bello Bella anche questa di Ellie Bel tunnel Bel tunnel Bella giocata Ocampos Ocampos ragazzi Vedete Levando molla skill Non ho mai capito Perché lui Fa un esterno E al numero 5 In solito Il numero 5 C'erano i difensori O i centrocampisti Lui è un esterno D'attacco E al 5 Ho sempre pensato Il perché Ovviamente Voi sicuramente Sapete il perché Mi aspetto in un commento Perché ovviamente Sapete tutte queste cose Quindi chiedo a voi Che siete esperti Qua Danilo Avete bel tunnel Pam Bappè Colpo di tac Stop E pim La fa partire Bella Oh non mi viene Bel sombrero Ecco non mi veniva il nome Mi stavo per incazzare Non mi veniva il nome Qua Non so di che lega Ha detto col cuore Però molto bravo Bel tunnel Qua se ne è sotto la neve Lo fa scivolare Già Già con la neve Si scivola Poi Tassanetti Fa pure quei dribbling Mica male Wow Un nome che è meglio Che non voglio pronunciare Anche se ce l'ho al fanta Perché fa molto ridere Come nome Qua bella Questa è bella Mamma mia Meghidi spin Stupenda Di Rafinha Meghidi spin Però stupenda Adam Atraore Su Fofana Quando fermi Adam Atraore Se Se Adam Atraore Ti ficca il corpo davanti O O O lo abbatti Da dietro O dici Lo devo lasciare Andare Perché Ti ficca il corpo davanti Non lo smuvi più Perché Uno è velocissimo E due è enorme È un armadio Cioè quindi Adios Qua Everton Molto bravo Molto molto bravo Come riesce Anche qua Brasile Speriamo che O Brasile o Argentina Non mi confondo sempre Però molto molto bello Anche qua Bella ruleta Beh Tanta tanta Romano e Neuer Vabbè Grande classe Il solito Manuel Non ci sventisce mai Qua finte Contro finte Contro l'Ajax Molto bravo Molto bravo Ancora Sancio Panzo Non escono in due Che lo chiudono Non lo fermano Poverelli Qua bel tunnel Di Young Young contro Shakhtaraz Ben destro sinistro Questo di Shakiri Ben destro sinistro Qua Klaivert Da un po' che non lo vedevo Klaivert Ve lo dico veramente Ve lo dico Con il cuore Non lo vedevo Tantissimo giocare Vedo che sta In gran forma Vedo che sta Però non credo Stia giocando tantissimo All'Ipsia Però Chi lo sa Chi lo sa Chi lo sa Mi sa il fratello Di Malinoski Dalla faccia Mi ricordava Malinoski Non credo sia una clip Vecchia Quindi credo sia il fratello Qua Adrien Reabbio Addirittura Non avessi nomi Qua invece Il giocatore del Porto Che proprio stasera C'è il Porto Juventus Voi già Sapete già Com'è finita Però sapete anche Che questo video L'ho registrato Di mercoledì Quindi Dac Conoscete anche I giorni di registrazione Qua Firmino Il gioielliere Bella Ruleta Ruleta Assist Bello Bello Figo Non si sa La può essere Neosala Perché si ha fatto Pure gol Grande roba Qua bello Messi Solito Tunnel Un esperto Di tunnel Messi Il migliore Qua La mela Bell Doppio passo Però Pressing C'è Zero pressing Davvero Anche qui Altra giocata Con la sua La Killian Un tocchettino Di punta E fa tunnel E se l'allunga Uuu E la linea di porta Cazzo Freddissimo Il difensore L'ha rischioso Mamma se è rischioso Grande L'ha una bella giocata Perché se sbagli Hai preso gol Amica L'ha rischiata Ma ha fatto una grande giocata Lì Il dif Non so chi era Sinceramente Perché non conosco Quella squadra Però Credo sia il difensore Qua Un'altra intro Penso che ci porta Un'altra giocata Qua Comando Già l'avevamo visto Un bel passaggio di tacco Però Vabbè Un fenomeno come Comando Ovviamente Ti aspetti Tu Normal Ti aspetti Diciamo E' la normalità Per lui Ecco Qua c'ha la Noglu Qui non so sinceramente Chi è E' del PSG Ma non ho capito Chi era Ve lo dico Sincero Non so chi sia Però Una bella finta Questa vabbè Da Glass Costa Me lo ricordo Da come corre E' veramente rapidissimo Di bala L'assist Davvero davvero bello Gnabry Grande passaggio tunnel Potenze Tunnel ad Henry Kane Non ma Ah no Era De Bruin Mi sembra che era De Bruin Oh mamma Che sepillato De Bruin Quello ha fatto male Beppe Kylian Mbappé Abbiamo messo un altro tunnel Qua Rebic Che fa varie finte Su Tomiyasu Guarda Qui Rashford Vabbè Doppio dribbling Più alta Terza Finta E poi BAM Goal Molto bello Molto bello Qua finta Di tiro Quel poverello Si era lanciato Ah Hummel Si era lanciato Convintissimo Poverello Ci è rimasto male Vinicius Tunnel Molto molto bello Io credo Che la mia Clip preferita E' rimasta Quella dell'inizio Cioè Quella dei Gundogan Sono giocatori del Tottenham Quella è stata Veramente Umiliante Proprio a vedere Il difensore Che proprio Così Rimane così PUM Faccia A terra Tipo dritto Per dritto Faccia a terra Poverello Umiliato Grande gol Grande giocata Fighissimo Bello Vabbè Questo è Quaresma Si vede lontano Un miglio Queste sono le sue giocate Queste sono le giocate Di Quaresma Che gli devi dire Che gli devi dire Ragazzi Questo è Quaresma Comunque molto 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 bello Leao Leao contro il Benevento Tunnel Non male Anche questo Mi sa che l'abbiamo rivisto Un paio Un paio Le abbiamo già viste Nel mese di gennaio Nel recap Delle skill Del mese di gennaio Quindi Però molte Sono nuove Molte Tantissime Sono nuove Veramente Veramente Belle Qua Non ho visto Che giocatore era Ah beh Un bel tunnel Un bel tunnel Qua Andrea Sperera Se ho detto bene Il suo nome È proprio Un giocatorino Non male Insomma la Lazio Non è un brutto Giocatore da Lazio Ecco Qua Una bella giocata Che abbiamo visto Fa la giocata Della vita Questo ragazzo Veramente Fa la giocata Della vita Qua Rabone Di Dembele Inutile Visto che Per come sta il Barcellone Per come sta Ormai Cioè devi fare cose facili Perché veramente Sta inguagliatissimo Comunque Grande giocata Anche qui In Olanda Il polpone Che si è fatto Male Mi sembra che Si è infortunato Il polpone Ma non so Se si è già ripreso Però avevo visto Che si era fatto male Muscolarmente Qui Anche questo Già l'abbiamo visto Su Davis Molto bello Molto bello Lo appoggio Luis Alberto Grande tecnica La tiene bene Molto molto bello E finisce qui Io sono sicurissimo Della mia clip preferita Molto bella Quella nuova Dimbappé Su tre giocatori Sicuramente Bellissima Ma se parliamo Di skill umilianti Sicuramente Quella Dimbappé Ha un posto speciale Però quella di Gundogan Mi ha proprio detto Wow Però Le due sono Quella lì Gundogan E Mbappé Per me La mia preferita E quella di Gundogan Aspetto la vostra Qua sotto Nei commenti Signori Se è giù al termine Anche di questo video Spero di avervi sia piaciuto Se così Tantissimi mi piace Nei commenti Iscrivetevi alla vostra Iscrivetevi al canale Condividetevi ovunque Passatevi al mio Instagram E trovate qua sotto Vi ricordo anche di passare Al mio sito di magliette Trovate in descrizione Dove ho detto questo Vi ringrazio di aver visto il video Vi ringrazio di sostegno Da X è tutto Haters Grazie a tutti